già da e la nostra amica di oggi benvenuti ciao elena ciao a tutti e ti comoda e punto da 5 a 1 e ti connetti a lei più profondamente di quanto non abbia già fatto ascoltando i suoi punti 5 4 3 2 1 dimmi come la vedi la vedo e lei ed è intenta a fare girare delle palline delle palle come se fosse un giugogliere molto brava non ne fa cadere neanche una però è chiusa in un uovo è come se è una rappresentazione bisogna vedere la rappresentazione della sua situazione attuale no questo essere chiuso in un uovo e tranquilla lì niente può essere pericoloso da fuori però a queste palline che che sono diciamo i suoi blocchi suoi desideri fermi e l'unica cosa che può fare a farle girare tra le mani è diventata molto brava a far girare le mani l'autorizzazione trada quindi è un giocoliere ma quanto sono le palline 6 cosa rappresentano le palline hanno un nome allora sono ansia paura lavoro casa luogo c'è tipo dove luogo dove stare dove abitare e l'altro è appunto partner ok già da già da già fatto una sessione due mesi fa frequenza un miliardo e mezzo il percentuale di consapevolezza 123 psp 40 60 vite precedenti al momento 1328 cervello 9,3 entità eteriche c'è un piccolo rettile piccolo rettile che collabora con un'entità mentale di livello 2 preposta preposta tenerla dov'è ferma statica appunto in questo uovo facendole pensare che mettendo in atto tutte le altre tutte le sei palline ok quindi facendo di venire l'ansia la paura poi l'insicurezza non sono non sono adeguata alla confusione quindi si potrei andare ma potrei restare potrei fare potrei non fare però non so boh sì ma ok quindi tutto il dubbio e fa sì che rimanga lì nel senso che non agiscono in sicurezza di di essere adeguata fa sì che lei non si muova da lì perché il pensiero che l'entità di livello 2 chi mette in testa è da fuori è pericoloso quando è tornata perché l'abbiamo tolta nell'altra sessione no già da l'entità mentale le abbiamo viste ok se infatti quando è tornato tre settimane mese fa tra un mese tre settimane si inventi si ti sei giorni fa circa scusate è tornata con attraverso la memoria di quello di che era prima ok diciamo che e poi la memoria di quello che era prima e gli eventi esterni quindi le interferenze che hanno cercato di che si presentavano a giada dopo un po sono riuscite a interferire di nuovo attraverso appunto il ricordo attraverso il ricordo c'è fatta la sessione tutto pulito ok ne abbiamo i ricordi no quindi è normale che un po c'è sappiamo benissimo come era la nostra vita fino al giorno prima ok e quindi ci ricordiamo come era la vita giorno prima se noi continuiamo a concentrarci su quei ricordi e su quelle abitudini ok a livello emozionale torniamo a vibrare rispetto a quei ricordi e quelle abitudini così abbassiamo le vibrazioni e le interferenze possono di nuovo interferirci è un po quello che dico praticamente ogni a ogni sessione dopo la sessione bisogna agire quindi se la cosa migliore è andarsene di casa e allontanarsi dalle persone tossiche della propria famiglia invece di cercare di capire qual è il motivo e la ragione per cui si ha un rapporto tossico con dei componenti della famiglia tossici tornano alle interferenze se non si agisce non succede nulla o poi vabbè per ed è quello che è quindi ci sono delle difficoltà bla 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 come dire trovare la causa esoterica per poter superare un ostacolo quando quella è la strada di fatto sbagliata per esempio c'è una compagna non ho capito se è la stessa di cui ci chiedeva ma una compagna che si è cinivaccata compagna una conoscenza che vorrebbe diventare una compagna del passato che se cinivaccata e si scontrano le due ora sono il cane l'altro gatto vai coi cani e io ho detto coi gatti nel senso io rispetto ma non mi metto lì a discutere a cercare di a dire ma tu mi devi rispettare taglio fine finito la cosa è finita o almeno si può sperimentare se uno poi dopo sta bene quella la strada giusta ascolti la tua ps la puoi mettere anche così però se invece e ti sconti ti fa venire il sangue amaro e ti incazzi e come venire come quando se ne si parla di astra c'erano il cazzo con il cerco di non parlarne no cerco di evitare quelli che sono fan di che mi scrivono per esempio a corso un bel esempio mi scrivono e con i facebook che hanno amicizia con quella faccia lì da cretino gialla con i capelli gialli e dico ciao sei proprio sicuro di chiedermi l'amicizia guardati in questo video e non mi scrivono più dove cosa peste corno che e se mi scrivono qualche cosa di spiacevole rispondo più anche metto lì a bert beccare no dicevo che non è neanche nostro diritto neanche nostra competenza cercare di convincere o cambiare le persone nel senso ci vanno bene così o sennò andiamo altrove ognuno è a sé ognuno le sue interferenze quindi non sarebbe neanche utile nel senso che quelle interferenze lì ci sono riguardano l'altro e noi non ci possiamo fare nulla quindi entità iter che rettile entità mentali livello 2 impianti no nei mentali nei eterici no c'è un edl che è l'impianto mentale diciamo le dl ti cioè è il mezzo del medico tale era sì sì al posto e altro tra virgolette ok scusa cinema mamma sorella compagno della sorella amica e il figlio dell'amica anche qua la sessione ideale è quella in cui non si chiama nessuno neanche disincarnato ti si concentra esclusivamente su se stessi oggi ho coniato una bellissima espressione pensare in modo alturistico a se stessi non egoistico è la turistico a se stessi e al contano simbolo un simbolo al contrario quando uno capisce questa cosa è già a metà del lavoro la consapevolezza molto più di 123 per cento che tanto ma come seconda sessione non è un gran che c'è gente che è partita da 250 ha chiuso a 290 tipo dei fuoriclasse già da voi diventare un fuoriclasse si è bloccata l'immagine bene di giada speriamo che si sblocchi così cerco di capire se c'è ancora oppure no a 6 6 6 6 6 6 ok poi diventava una fuoriclasse e allora oggi facciamo una sessione da fuoriclasse facciamo una cosa mica i tre fuoriclasse che abbiamo avuto da quando abbiamo iniziato insieme alla collaborazione elena senza nominarli dimmi uomo donna donna uomo quello che insomma chiama limi tre migliori da uno io in mente ce l'ho dai chiama lui poi anche quello con la natura gli animali e poi una donna a quella che sembra rumena bene dire il nome archidea ti ricordi orchidea no che dietro c'era un quadro ah ok la gamba ah sì sì ok ma che aveva già fatto parecchia roba da sola assolutamente mandati con la limina lì mare ma la statua c'era già si abbiamo aiutato a carta vetrare a carta vetrare marmo per aprirsi alla tele cinesi e le trarate le cinesi ci aveva già il compagno fiamma male primo e poi l'uomo animale e nei tre andiamo a scuola e chiamiamo già da che a quattro in preferenza che non ci interessano male se è giocogliere delle sei palle ok che succede facciamoli così conoscere si presentano a il primo si presenta come quello che puoi dire si ok le mostra allora vedo come un passaggio di informazioni apprese quindi esperienze finite e quindi assimilate ok da da lui a lei tramite energia vedo che mette la mano così e passa all'energia tipo vedo tipo come se fossero del dei fulmini no piccoli fulmini bianchi che arrivano a giada è tutta tutta una parte su chi trasmette tutta una parte sulla perché arriva chi non capisca non so se posso dirlo forse troppo ma in che senso sì sì dillo sì no 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 il primo è ok ripetimi non ho capito allora gli passa tutte le informazioni chiare molto chiare che potrebbero essere molto utili a giada no sono tutte sull'autodeterminazione quindi è come se già da le apprendesse tutti no è come se la vedo che allora lui con la mano così e lei con la mano così gli passa proprio questi fulmini di informazione della sua ps alla sua ps ok sull'autodeterminazione è quello che vedo in giada è che in testa è come se gli arrivassero tutti tutti i dati no quindi di apre tutto un canale di far vedere tutto quello che riguarda tutta la sua conoscenza appresa e portata avanti rispetto all'autodeterminazione e e lei la registra quindi questa cosa fa sì che lei da adesso in poi abbia una finestra aperta dove andare benissimo quindi il primo è l'autodeterminato il secondo è l'uomo degli animali e la terza e orchidea si il secondo l'uomo degli animali gli passa proprio tutta l'informazione che riguarda la comunicazione della ps con la natura no quindi animali e natura e tramite questa informazione sempre nella stessa maniera vedo proprio che lui gli passa come fare come sarà una capacità medianica cioè come fa lui a entrare in comunicazione con con la natura e gli animali no quindi diventa una cosa unica quindi torna a essere uno con la natura e gli animali e a lei arriva questa informazione e orchidea e orchidea le manda tutta l'informazione come fa a essere in comunicazione con la sua ps per creare tutto quello che gli serve orchidea potrebbe parlare soprattutto della fiamma e quindi esatto nella fiamma è una cosa poi il resto no che sta facendo e sta portando avanti la fiamma ormai è arrivata e c'è ed è la sua creazione che ha che ha portato no e poi rispetto al lavoro e le altre cose comunque stanno arrivando e che sta portando avanti vedo proprio che le ho andato questa informazione per farle vedere come ha fatto e come fa lei a comunicare sempre con la sua ps quindi quello che già da avrà da adesso in poi come se avesse le istruzioni no quindi come se gli si aprisse il canale quindi canale autodeterminazione canale contatto con la natura e gli animali e canale creare con la ps e e quindi lei è come se nel disordine che l'interferenza di livello 2 gli creava ci fosse ordine quindi 33 strade che le può percorrere tutte e tre le può percorrere tutte e tre andare qua poi la la tranquillamente quando vuole però sono determinate sono delle vie chiare queste informazioni riviste come i piccoli lampi che passano da uno all'altra dal primo dal secondo e dalla terza a lei ok facciamoli conoscere i tre ma non li vedi allora ho visto che appena si sono guardati hanno messo tutte e tre le mani così essi sono si stanno passando le informazioni tra di loro quindi l'autodeterminato prendere informazioni per la natura e creare con la sua ps orchidea prende le informazioni della natura dell'autodeterminazione e l'uomo della degli animali prende le informazioni di autodeterminazione della punti come creare con la ps adesso come la vibrazione di giada 20 miliardi ok andiamo avanti sempre con i tre nostri amici presenti si vogliono che a quello dei tre più coinvolto l'autodeterminato causa esoterica del mangiare esagerando del bere esagerando e del gonfiore è come se lei sentisse che manca un pezzo nel corpo come l'immagine in eterico è lei ok come se vedo lei a cui manca un quadratino ok e con il cibo lei il cibo il bere lei pensa di riempire questo quadratino che manca pensare a una causa esoterica legata a una vita precedente legata a una ragione emozionale si è ragionato vedo legata al corpo emozionale mi viene quando era piccolo intorno ai 3 4 anni partito da lì ma può essere magari quando ha iniziato andare all'asilo distacco dalla mamma così ma è alto così però cosa succede succede che l'entità mentale di livello 2 la usa a sfavore di giada c'è ogni volta che le vibrazioni basse di giada vanno sull'emozione vuoto lui ci infila lo puoi riempire col cibo o con l'alcol ok esiste la fiamma di giada allora sì esiste la fiamma di giada però è uomo e lo vedo è una francia del nord est al nord ovest ok luciana anime gemelle sì allora 3 ma secondo me nella sua zona potrebbe essere più o meno in quella zona lì tipo intorno al paraggi di venezia venezia frazioni una lei l'ha già conosciuta si dimmi scusa sì poi ne vedo una romagna mi è arrivato ravenna è una in italia è una confine con la ligura tra ligura e piemonte qualcuna già conosciuta quella vicina ravenna ok ma ce n'ha parlato prima e la cilivaccata è quella un po grande no quella assolutamente no io un po di confusione adesso già la cilivaccata c'è quella molto grande e la terza la nuova scrivimi nella chat qua skype skype lasciate di skype a non ha il telefono vai vai allora scritto la scritta sulla carta ok metto chiamiamola dimmi come la vedi se viene ovviamente quella che ha già conosciuto dici giusto quella che ha già conosciuto sì 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 ma la cosa più semplice no ha detto capelli corti i neri sportiva o più lontano proprio lontano a sese ma è quella di cui c'è detto il nome quel bel nome quella lì che ho detto che bello quel nome sì 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 ho capito capito potrebbe essere non so se è di quella zona o adesso in quella zona ma è pieni in quella zona 40 km ecco effetto sì sì lei 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 ok che vedo va bene nella cilivaccata questa no 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 ok hai una connessione molto lenta è già da molto molto lento va bene la vogliamo mettere nel cinema direi che più importante di tutti quelli che ha chiamato perché tutti quelli che ha chiamato sono i soliti appartenenti alla solita famiglia di tutti che se vogliono si guardano esatto se vogliono si guardano i video se noi ci vogliono guardare i video ciao ma non perché i video sono tutto perché ai video di questo tipo di questi argomenti portano un certo percorso valido se non se ne vuole sapere assolutamente c'è sempre canale 5 guarda canali 5 alla mastrota con i materassi no ok vabbè c'è una causa esoterica al basso appunto rapporto con la madre la sorella quello che dicevo prima no che ognuno le sue interferenze quindi differenze contro differenze ci si scontra sempre bisogna imparare essere a riconoscere che sono interferenze e a approcciarsi in maniera neutra no quindi ognuno a se stesso e se non ti va bene dice vabbè così no io non ci sto ciao ciao ognuno si deve farlo proprio la propria vita il fatto che anche la famiglia fa parte degli attori se no non cambierebbe ogni vita no quindi il fatto che ogni vita in ogni vita gli attori della famiglia sono diversi questo ci fa capire che sono attori e quindi l'amica con il figlio in un'altra città le vorrebbe andare quella città perché c'è l'amica col figlio è sempre un dipendere da qualcuno no perché vai c'è un affetto e quindi tu stai lì perché c'è quell'affetto e quindi dipendi da quella persona ti accanci ma quindi è proprio non c'è uno potrebbe potrebbe andare lì ma dopo che ha fatto tutta la sua il suo percorso ma da sola quindi può andare a trovarla spesso quello sì ma c'è andare di è proprio vedo proprio no che come una in eterico vedola l'amica col bambino e lei che come se fosse un pezzo in più di questo binomio no quindi in eterico vedo proponga che si aggancia così ok quando è in giro e il contatto inevitabile con le persone che sono in giro per strada così le crea mal di testa le fa vedere i numeri doppi la fa sentire intasata e questo la porta un po a isolarsi e questo l'ha portato ad avere sempre meno amici allora questa è la sua capacità di sentire l'altra persona non di sentirla a livello energetico spesso succede è successo anche a me anni fa ma succede spesso quando veniamo a conoscenze vediamo le nostre capacità mediani che livello energetico che possono essere appunto sentire l'energia dell'altra persona oppure vedere futuro oppure muovere gli oggetti comunque tutte queste cose all'inizio fanno un po paura no perché è una cosa che non conosciamo e che all'inizio non siamo in grado di gestire perché viene tutto di colpo però è una sua capacità di sentire le persone quindi lei così può anche capire con chi no con chi lei sta bene quindi come diceva prima quando c'è una persona che la sento a fine con cui sto bene mi batte di più il cuore e quindi io sono felice invece con quelle dove non sto bene mi viene mal di testa e allora quelle sulle persone da allontanare è una gran fortuna questo esattamente decisamente proprio la ps tu li entri in contatto diretto con la ps c'è una cosa veramente fantastica uno strumento molto buono o poi deve solo allenarsi a limitare un po c'è perché se si fa trascinare completamente dall'altra energia è proprio farsi trascinare quindi lei deve solo imparare a modulare questa cosa no e col tempo può tranquillamente intasata e probabilmente è il carico energetico no c'è tutto ad un corpo sente tutta l'energia dell'altra persona uno non è abituato come se ti arriva uno schiaffo no come se ti arrivasse addosso se fossi schiacciata come se ti arrivasse addosso un carico di cosa quindi quello è il senso dell'intasamento c'è ansia in giada se lo vedevo prima sì sì è una delle quale ha giusto vero ansia la 1 nelle emozioni quali altre emozioni appunto negativi ci sono paura la confusione la paura il numero due la confusione un'altra emozione negativa ma le palle come le spere come le definisci belli le vedevo proprio pesanti ai presenti tipo le bocce tanti così quindi proprio una roba pesante che lei fa girare pensi di mettere tanto sforzo fatica quindi spreca un sacco di energia tenere queste cose a tenerle quando sarebbe bene che le lasci andare completamente ok network i tre li mettiamo in contatto con giada chiamiamo altri ex clienti nostri incredibili senza analizzarli tutti vediamo quanti ne arrivano i primi tre sono i fondamentali che abbiamo chiamato creiamo un network allora ne arrivano altri quattro che io mi ricordo ce li riconosco e poi ne arrivano altri quindici che però non c'è vedo che arrivano ma non vedo neanche la faccia non so che sono che non li riconosco in quel momento e si mettono tutti intorno a giada ok tutti con le mani così verso di lei la sorella informazione le prendere da tutte le parti del corpo per osmosi se quanti sono in totale quindi 15 15 più 4 17 più 3 20 più tra i primi 3 20 20 in tutto tutto più giada sì queste informazioni di tutti i clienti siamo venuta mi è venuta una cosa sono 20 più già da 21 21 è il ciclo perfetto e la fisiologia umana curva perfetta di 21 giorni è arrivata così questa cosa ci stanno controllando c'è il mio ricco adesso non più adesso non più prima se quando ha detto 21 c'era c'erano soli facciamo un distillato di informazione la network ball la vostra diciamo a 21 la moltiplichiamo e la mettiamo a disposizione di tutti in primis quelli che sono già stati con noi già da ovviamente questa diciamo è un po simile alla vic ma è creata dal network quindi tutti i contributi che le persone più consapevoli che dopo la sessione si sono rimboccate le mani che già se le erano rimboccate e si sono date da fare e hanno creato delle cose e ce ne sono venute a dire e ce l'abbiamo abbiamo creato uno scambio queste tre persone che abbiamo citato all'inizio specialmente la prima questo è avvenuto è stato creato uno scambio molto interessante quindi non aiutami non qual è la mia missione non voglio aiutare nipotino ma scambio molto efficace molto efficace queste sono informazioni aggiuntive a quelle della i di informazione della vick nuova creazione la network 21 che creato insieme dobbiamo andare a depositarla a metà royalties a testa però come cinivac non c'è nessuno ma a me scrivono le medici vacci vacarsi o anche gli amici ormai mi scrivono un euro ogni volta che usate un euro diritti d'autore royalties non c'è molto da fare oggi con giada abbiamo già praticamente finito quindi possiamo anche permetterci di scherzare e ridere quindi però l'ultima cosa che dovevo fare in effetti sono i disincarnati i nonni materni e perché no tutti i parenti di giada che sono mancati tutti anche quelli che lei non sa neanche di aver avuto di una due tre quattro generazioni fa apriamo subito il portale aureo lo apre già da che già lo conosce chiamiamo con la tromba i nonni materni e tutti i suoi parenti nonni materni come si presentano allora lui con una giacca un cappotto a tutte elegante con un cappello un cappotto un po tondetto e lei si presenta lei si presenta con un abito tipico ce lo dico perché lo conosco c'è riconosco perché sono anche qua vicine della zona con un tipico abito waltzer quelli tipici da monta più o meno più monterosa e del monte rosa soprattutto da montagna da montagna con la gonna la parte bianca davanti tipo grembiulino anche sopra no poi con quegli scialle tutti fatti di lana buchi e con le tipiche zoccole waltzer sono quelle non sono tipo su tirono una roba simile ecco l'è arrivata così lei già da no la nonna di gianna nonna ok e nonno e nonno era tutto elegante con questo cappello il cappotto vogliono dire qualcosa sia già da si a loro figlia la mamma di giada ha già da ave la nonna come se fosse ancora qua nel senso dice no apprensiva da nonna tipo c'è la frase che dici mi sembra posta ma così però dice copriti copriti bene e stai attenta quando vai in giro c'è proprio come se fosse ancora qua è ancora qua se la vedo in casa ci sa mamma la vedo lì ma lei aveva detto che forse erano attaccati alla madre già da giusto l'avevo delito sei ipotizzato molto bene brava già da l'ipotizzato post tu eri non c'eri quando lei l'ha detto ma si è andata un attimo di la cosa è attaccata la nonna della madre a cosa è attaccata è attaccata alla sua mania che stiano tutti bene quindi tra virgolette alla salute no quindi come se lei come se la nonna di giada andasse in allarme ogni volta che una di loro uno di loro di quelli che che abitano lì quindi sono già da e la mamma ogni volta che starnutiscono soffiano il naso lei va in ansia e loro sentono soprattutto già da sente sente la sua presenza quindi un fastidio un po d'ansia o come se c'è qualcosa di strano in giro soprattutto la nonna appunto è attaccata questa cosa qua salute quindi le segue vedo che le segue tipo di notte si sposta da una stanza all'altra poco un po la come se fosse paranoica della loro salute e il nonno e non lo vedo attaccato la nonna quindi anche la madre di giada cosa creano la madre questi questo attaccamento po di nervosismo ma vedo che diventa nervosa così magari inspiegabilmente noi non stiamo lavorando sulla madre non abbiamo l'autorizzazione ma stiamo lavorando sui nonni perché già da ce l'ha chiesto quindi il messaggio l'hanno mandato portale aureo fatto ne beneficeranno tutti tra cui la madre di giada sono entrati considerando tutti quanti sono andati 55 ok nella cinema che c'è allora allora vedo in seconda fila la sorella come la sorella e la mamma tra file dietro c'è l'amica e figlio dell'amica e in prima fila c'è la l'anima a fine che abbiamo chiamato per ultimo nipoti troppa gente comunque appena dopo anche dietro dietro ai loro genitori praticamente va bene andiamo alla lavata al cluster scusa andiamo vedendo se c'è qualcosa sì c'è questo c'è ci sono le vite che sono rimaste mille mi ricordo 1200 se quelle lì e poi in questa qua c'è quel contratto che ha rifatto con con etità mentale di livello 2 ecco nel falconiforme ok li vuole tenere abbiamo finito ok se sa benissimo come toglierli perché li ha fatti tornare legge tolti una volta perché lei quello che ha fregato già da tra virgolette che non non si è accorta di tutte le interferenze che la stavano interferendo le sono arrivate a un certo punto sono arrivate talmente tanto vicino che che non che quelle lì non è riuscita a bloccarlo prima diceva che anche al lavoro non ho sentire continuavano a parlare di questa situazione che c'è in questo momento no continuava 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 e diceva adesso basta ecco questa roba qua tutto assieme quello con i pensieri e ricordi ha fatto sì che la interferisero di nuovo non ha fatto in tempo a riconoscerli a fermarle ok via tutto nuovo ad eterno ancora più grande l'eterno serve a guardiano mette un'alimentazione eterna di frequenza alta insomma dopo è impossibile non darsi da fare ok ne ha fatta la messa e qui che si vince ragazzi qui la matrice serve a quello non è una trappola non cercate la scorciatoia la porticina altana libera tutti datevi da fare giusto allora come vedo sempre alla fine i suggerimenti che danno alle ps sono proprio quelli di mettere in pratica nella matrix le cose di prendere le concrete materiali gli esercizi gli allenamenti perché noi siamo qua nella matrix per diventare sempre più consapevoli ed evolvere ok e quindi qui credo abbiamo l'esperienza deve essere concretizzata perché sennò rimane solo un'informazione ma non è sperimentata deve essere sperimentata nella matrix per far sì che prendiamo tutta l'esperienza ok quindi bisogna agire sempre in maniera dinamica andiamo alla vota c'è o qualcosa c'è il tasto di scelta che vedo qua sulla destra apri il portale definitivo gliel'ha tirato ha tirato dentro e adesso ha chiuso ok ad eterno ma che qua altri cinque forse all'epoca della sua prima sessione non l'abbiamo fatto ne può creare uno anche nel corpo fisico uno nel corpo mentale subliminale emozionale che terrico messi quel poco che c'era c'è ancora le se palle ci sono no il rettilianino le di ellino e l'entità mentalina numero 2 ino grazie a già da oggi abbiamo creato netto network 21 prima di crearlo se non sbaglio ti ho chiesto la frequenza e mi ha detto 20 miliardi giusto l'avamo ancora fatto ma adesso che l'ha creato e adesso che ho fatto questo lavoro a quanto è la frequenza 130 miliardi 230 che hanno 130 no 230 miniali percentuale di consapevolezza 189 tsp e 58 e 42 vite precedenti 937 cervello 9,9 ok messaggio finale su tutto è fondamentale è fondamentale che tu abbia il tuo spazio adesso non ha il tuo spazio non riesce ad avere il tuo spazio i tuoi tempi è fondamentale che tu abbia il tuo spazio e tu hai tempi da lì potrei creare tutto quello che desideri allena la tua sensibilità verso l'energia delle altre persone che incontri questo ti aiuterà a ad attirare a te le persone che ti fanno stare bene mi fa vedere tipo vedo tipo una serra come se le potesse lavorare con le piante far crescere le piante dai semi una serra quindi allenare in questa cosa anche partendo da se da sola non riesce che potrebbe essere l'ideale per farsi affiancare da qualcuno anche se può non sembrare un vero e proprio lavoro però può iniziare approcciandosi piano piano a questo ambiente come alzare le frequenze deve disegnare un sole disegnare un sole grande ok in mezzo fare tagliare un cerchio dove lei si mette in mezzo a questo sole ok e quando è dentro il sole pensare proprio che le frequenze aumentino ok quindi da piedi vanno alle mani iniziando da una scala può partire dai suoi può partire tipo da 10 miliardi che la vedo come base che lei da oggi in poi avrà sempre e arrivare fino a 10 cento miliardi per un po e poi aumentare a suo piacimento ok quello che la ps dice presta molta 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 attenzione ai segnali che ti mando che possono essere intuizioni quindi frasi che passano nella sua testa immagini che passano e precisamente nella sua testa ok soprattutto queste cose queste due cose frasi e immagini improvvise quella è la ps domanda alla ps quanto della propria evoluzione personale di giada può incidere il percorso con la l'anima fine che abbiamo individuato cioè se mi mettono i panni di giada intorno a sé chiusa la sessione non c'è niente di certo se non questa qui questa ragazza che ha già conosciuto che è tutto sommato e vicina e che non deve costituire un ancora a cui aggrapparsi però uno spunto è questa è la domanda quanto è uno spunto quanto può essere valida l'azione di giada per giada in relazione a questa persona che comunque è una un'anima gemella quindi un'anima fine un'anima gemella non è poca roba allora diciamo che come all'inizio per ora questa anima gemella può essere per lei uno strumento ok per da quel punto di vista quindi per la socializzazione e appunto in un inizio di approccio come parte ok quindi la conoscenza sua può essere utile per entrare a livello sociale in un nuovo gruppo di persone ok la vedo molto molto fa molto possibile questa cosa molto armonica per già da ok però nel parallelo già da si deve si deve strutturare la sua vita per sé quindi vedo che non è importante tanto il posto doveva vivere per ora ok ma deve andare c'è quello che vedo che è chiaro che la ps mi fa vedere che deve andare a vivere da sola ok e trovarsi un lavoro che la rende felice e a livello evolutivo costruttivo per lei dove ci sta bene dove sente che è creativa la cosa ok e quindi diciamo che la l'anima gemella a livello sociale può essere un'apertura molto 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 proficua efficace e molto bella ok cosa fanno quelli del network sia i primi tre chiamati sia tutti gli altri 17 17 31 no si più cioè già da il ventunesimo se gli altri sono 26 se agli altri 17 sì 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 praticamente con come se fosse rimasta l'informazione di tutti e 21 e ok quindi come se fosse rimasta l'immagine di loro con dentro tutta l'energia dell'informazione che crea questo nectar network when 21 che è creato ed è di così e loro si sono messi tutto intorno a semicerchio così a continuare a vedere il nostro lavoro quello che stiamo facendo ok ne hanno beneficiato anche loro sì sì perché comunque c'è sempre uno spunto assolutamente se si uno dei tre l'ha sentito o tutte e tre o per dire questa roba qua stiamo proprio per dire questa cosa mentre tu lo dicevi lo vedevo soprattutto allora l'hanno sentito in maniera diversa allora l'uomo degli animali è come se avesse sentito un'onda come sai tipo un golgoglione la pancia come onda orchidea orchidea è come se gli fosse arrivata un'informazione di un'apertura se gli fosse arrivata tipo l'informazione che c'è stato fatto cioè del lavoro no proprio come se gli fosse arrivato presta attenzione alle sessioni perché ti arriverà un'informazione che tu riconoscerai ecco e l'autodeterminato l'autodeterminato l'ha sentito a livello energetico come se avesse sentito una bolla di espansione energetica intorno a lui va bene come vedi già da già da adesso la vedo lucente la vedo libera come se spingesse con il petto no per dire ok finalmente si espande si può espandersi all'esterno fuori dal guscio che aveva prima e la vedo tutta lucente luminosa bene abbiamo finito cosa fanno nel cinema specialmente cosa fa la l'anima gemella gli altri si vedranno le sessioni anima gemella e come se la vedo molto attenta e come se dovesse percepire tutte le informazioni no vedo che di che pensa cavolo devo recuperare il tempo perduto perché queste informazioni io non le avevo adesso che le ho e devo utilizzare quindi come se prendesse appunti tutto veloci metto su un colpo no la vedo molto entusiasta va bene abbiamo finito pronto a tornare sconnettiti da tutto e tutti